Musica Questo è l'arco di Toronto, Gaitan Monty, che lei deve essere bellissimo, su Parashii. Oh, Chantelise, oh, Chantelise, la 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 la, oh, Chantelise. Ecco, questo è il famoso abbenizzo di Luxor, questo sono io, e questa bellissima fontana, non so come si chiama, ma è bella. Finalmente siamo giunti alla tomba di Jim Morrison, eccola qua, che camminata, che stanchezza. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Questa è la famosa Torre Eiffel. È più alta della Torre di Fisa, più alta della Torre di Bologna. Dopo dobbiamo salire lassù. Torre di fila, un freddo della Madonna, ma ce l'abbiamo fatta salire sulla Torre Eiffel. Guardate Parigi che bella.